Dall'8 maggio l'Istat ha lanciato una nuova indagine sulle imprese via web per misurare l'impatto della crisi Covid-19 sul sistema produttivo. Noi invitiamo tutte le imprese a partecipare a questa rilevazione, il tempo di compilazione del questionario via web è molto breve, si tratta di un quarto d'ora. Le domande sono tutte quanto orientate a capire qual è la situazione delle imprese in questa emergenza, se hanno fatto ricorso agli strumenti previsti dal governo per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la cassa integrazione, gli aspetti sanitari e anche per capire quali sono le loro strategie di risposta a questa emergenza. L'indagine verrà ripetuta nei prossimi mesi proprio per avere un quadro evolutivo della situazione delle imprese, sappiamo che nei primi periodi dell'emergenza la crisi produttiva ed economica sarà molto forte, il PIL è sceso di quasi il 5%, la produzione industriale abbiamo diffusi dati quasi il 30%, quindi è chiaro che è un impatto molto importante sul sistema delle imprese e il monitoraggio della capacità di reazione delle imprese, il fatto che ricorrano o meno a strumenti di supporto e di protezione rappresenta un elemento molto importante per gestire al meglio la fase di ripresa, quindi invitiamo tutti quanti a partecipare, ripeto si tratta di un'indagine molto semplice da compilare che riflette in tutto il punto di vista delle imprese, quindi anche un modo per far sentire la voce delle imprese in questa situazione di particolare difficoltà. Grazie per la partecipazione. Grazie a tutti.